un orribile tv lcd può essere ancora utile magari si si è attaccato al muro con una placca vesa come monitor ausiliario di un pc da sfruttare per guardarci ip tv con programmi quali codi perfino in full hd con audio scandaloso e via di cuffia ovviamente volendolo si può usare anche come fonte di luce magari colorata magari stroboscopiche con quattro tasselli e le solite quattro bestemme in qualche decina di minuti salvo di stercarsi nella selva di cavi il versatile arcrocchio è pronto tutto sommato per gestire il terminale di un quarto server si vede fin troppo bene dal computer della prova è installato fedora linux che riesce a gestire tranquillamente i vari monitor consentendo varie configurazioni pronati oppure gestiti come se fossero un unico desktop e stesso appiccimento in uno dei quattro lati dal monitor supplementare declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti il mi piace e le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao 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 io ciao ciao Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.